Ho bevuto troppa acqua minerale stasera. Buonasera tutti. Sempre col bicchiere in mano. Guarda, io non ce l'ho. E' apparsa come le due macchine. Buonasera siete attrezzati con le radioline. Eh, hai visto. Ci hanno dato anche le scarpe stasera. Se volete dire qualcosa con la mal di macchia, prego. Canale 8. Mi raccomando, con la gente qui.